Ben ritrovati a Pillole di Arabo. In questo video continuiamo con i numeri e quindi vediamo i numeri da 11 a 20. Dunque, 11 si dice Hedashar, 12 si dice Ethnashar, 13 si dice Talatashar, 14 si dice Arbatashar, 15 si dice Hamastashar, 16 si dice Setashar, 17 si dice Sabatashar, 18 si dice Tamanashar, Tamanashar, 19 si dice Tesatashar, Tesatashar e 20 Ashrin, Ashrin. Dunque, come avrete notato, è semplicemente l'unione e la fusione del numero E più 10. Per esempio, 2 è Ethnain, 10 è Ashara e quindi il 12 è Ethnashar, 3 è Thalata, 10 è Ashara e quindi il 13 è Thalatashar. Stessa cosa, per esempio, il 6 che è facile, Setta, più 10, Ashara, Setashar. Ripetiamoli. Quindi, 11 è Ashara, 12 è Ethnashar, 13 è Talatashar, 14 è Arbatashar, 15 è Hamastashar, 16 è Setashar, 17 è Sabatashar, 18 è Tamantashar, 19 è Tesatashar. Vivintashar, 20 è Monsieur pare, 20 è bloomato. Grazie a tutti.